Cari telespettatori, bentornati in diretta per Primo Cittadino. L'ultima puntata della stagione la dedichiamo alla città di Fano e al suo sindaco Massimo Seri. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Ricordo ai nostri telespettatori che i numeri di telefono per intervenire in diretta sono sempre gli stessi. 0721 86 14 33 per parlare direttamente con il sindaco oppure potete inviarci un messaggio anche con whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco vorrei ricordare brevemente l'evento che si è svolto ieri sera alla Rocca Malatessiana, ne abbiamo appiamente parlato anche nel corso del nostro telegiornale Occhio alla Notizia. L'ho vista particolarmente commosso, devo dire tra l'altro ha detto fare il sindaco è difficile ma nell'emergenza lo è ancora di più. Qual è stata la cosa più difficile da affrontare, il momento più duro? Le emergenze sono sempre difficili perché un sindaco che in prima linea ha un dialogo costante con la gente rispetto ad altre istituzioni che sono più lontane, un sindaco si sente anche il peso della responsabilità perché dietro ci sono le sorti di tante persone. Quando parliamo di emergenze parliamo di momenti difficili, parliamo di esondazioni, di neve, di terremoto, in questo caso di pandemia e quindi sono momenti delicati dove bisogna essere concentrati, bisogna avere il coraggio delle scelte perché poi lì non bisogna tentennare, bisogna avere la forza anche di prendere decisioni che in alcuni casi essendo in emergenza uno non sa neanche quelle che sono le conseguenze. Devo dire che in questi anni Fano è stata messa dura a prova perché effettivamente abbiamo avuto tante esperienze ma tutte le volte ci siamo comportati con grande dignità e abbiamo affrontato tutte le emergenze con grande efficienza e grande professionalità. Questo ovviamente non è un merito di una persona del sindaco, è un merito di una città, di una rete, di un mondo del volontariato straordinario a cominciare dalla protezione civile che veramente fanno cose che ci invidiano in tanti ma c'è una rete tra le forze dell'ordine, tra le istituzioni. Devo dire che questo rapporto anche durante quest'ultima emergenza ha funzionato. Le risposte ci sono state, è chiaro che ovviamente non tutto è perfetto, gli errori si commettono, però oggi col seno di poi posso dire che Fano ha gestito degnamente questo momento difficile. La cerimonia di ieri è stato un momento di alto valore, è stato un momento profondo che io ritenevo doveroso nei confronti delle tante famiglie che hanno vissuto momenti di dolore, che hanno perso delle persone care. Al dolore si è unito altro dolore perché perdere una persona cara, non poterla salutare, non potersi avvicinare, non poter fare il funerale è difficile. Lo ricordavano anche le testimonianze di ieri sera e quindi mi sembrava giusto dedicare un momento importante perché una comunità è tale se sa essere coesa, se sa essere unita. Ieri è stata una bella risposta perché tante persone hanno partecipato, quello è possibile, ma molte le hanno seguite, anzi voglio ringraziare Fano TV per la diretta perché ho avuto dei ritorni importanti, molte persone che non hanno potuto partecipare hanno seguito la diretta. Ma pensa di organizzare anche altre iniziative post-Covid? Beh guardi, io avevo pensato, intanto vorrei dire che questa cosa l'ha organizzata l'amministrazione comunale insieme alla diocesi, voglio ringraziare il Vescovo, Don Francesco, anche perché anche i parroci durante questa emergenza hanno svolto un ruolo importante, sono stati presenti, molto vicini anche alle famiglie, alle persone più sole. Quindi c'è stata veramente una città che ha saputo essere un tutt'uno e questo fa la differenza. Lo dico spesso, noi ci agitiamo, litighiamo su tante cose, ma quando ci sono i momenti difficili sappiamo essere uniti e affrontare le sfide e le difficoltà insieme. Quindi abbiamo pensato di fare questo momento doveroso, poi vorrei fare un altro momento quando sarà possibile, quando saremo tornati nella normalità, perché ovviamente bisogna dare la possibilità a tutti di partecipare. Vorrei fare un momento di ringraziamento, perché le persone, donne e uomini, sono state straordinarie in quei momenti, a cominciare dagli infermieri, dai medici, dai dirigenti sanitari, nelle corsie di ospedale, ma anche nel territorio. Nei servizi del territorio. Tutte le donne e gli uomini della protezione civile, della Croce Rossa, di quelle associazioni che veramente giorno dopo giorno per orari lunghissimi hanno portato aiuto alla popolazione, sono state sempre a fianco dell'amministrazione. Ma vorrei dire tutte quelle persone che quando eravamo rinchiusi in casa hanno continuato a lavorare per garantire i beni di prima necessità. Pensate a coloro che lavoravano in supermercati o lavoravano in servizi per far continuare anche la quotidianità della città. Quindi non è tutto scontato. Sono persone che hanno messo in discussione anche la loro stessa salute per fare determinati servizi. Siamo tutti grati, lo abbiamo detto in più circostanze, ma devo dire che la città è stata molto vicina a queste persone. Allora quando sarà possibile vorrei fare un momento di ringraziamento per tutti. E mi piacerebbe perché ogni tragedia, ogni emergenza che viviamo ci lascia sempre qualcosa. Ci trasmette dei messaggi, ci tempra, ci insegna a non commettere altri errori che si sono inevitabilmente commessi. E anche delle testimonianze. Mi piacerebbe dedicare un monumento, che io vorrei chiamare Speranza, da collocare vicino all'ospedale. Adesso ci stiamo ragionando. Quindi erano tre i momenti che avevamo pensato. Il primo era quello di ieri alla Rocca. E quindi un grazie a tutti coloro che hanno partecipato, un grazie a coloro che hanno collaborato. Perché tutti si sono resi disponibili con grande generosità. A cominciare anche dagli artisti che sono stati sul palco. Dai musicisti al coro, agli attori che hanno letto poesie, brani. Quindi è stato un momento di forte suggestione. Quindi sindaco, ricordo, ringraziamenti e poi un monumento Speranza. Ha parlato prima anche di errori commessi. Ricordiamo che qualche giorno fa, qualche settimana fa, lei ha scritto anche al presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, una lettera nella quale ha richiesto di modificare l'accordo siglato nel 2018. Ha fatto un passo indietro? Che cosa è successo? Allora, intanto al presidente Ceriscioli io non finirò di ringraziarlo. Ieri non era presente perché ha avuto un contrattempo, gliel'avrei detto pubblicamente. Perché Ceriscioli in un momento delicatissimo ha fatto delle scelte coraggiose in solitudine. Anche contro il governo che gli si era messo di traverso. Lo ha fatto senza avere la solidarietà del territorio che rappresentava, tranne qualche piccola eccezione. Oggi, se non ci fossero state quelle scelte giuste, probabilmente avremmo raccontato un'altra storia molto più dolorosa. E quindi gli va riconosciuto questo grande merito. Ma lo riconosce la gente, perché poi queste cose le vedono tutti. Come tutte le vicende evidenzano le cose che funzionano meglio e meno. Io con quella lettera al presidente, che era una lettera di collaborazione, provavo a fare un'analisi su quella che è la situazione sanitaria. Abbiamo capito, ma non è Fano, è l'Italia che ha capito che va rafforzato tutto il servizio di prevenzione, tutto il servizio a domicilio sul territorio. In quelle realtà dove il servizio era più forte, ci sono state risposte più adeguate. Quindi qua, devo dire, c'è stato un lavoro in mane dei sanitari e questo va riconosciuto. E allora, con la lettera, non è che ho detto di fare un passo indietro, ma di fare un passo in avanti. Di integrare, pensando anche a nuovi servizi che possono essere integrati alla luce di quanto è accaduto. Quindi pensando a qualche servizio in più all'interno dell'ospedale che ci dovrà essere. Quindi più tecnologia, più organico e più posti letto, diceva. Sì, anche pensando al territorio, rafforzando determinati servizi. Per esempio gli USCA, che sono un servizio importante che rimarranno. Sono partiti in fase avanzata, se fossero stati presenti sin dall'inizio. Però, ovviamente, come tutte le cose, le emergenze, come le guerre, non c'è preavviso. E quindi uno le affronta anche in determinati momenti. Certe cose si vedono quando emergono. Nessuno ha la sfera di cristallo. Allora, anche su questo, siccome abbiamo fatto un lavoro importante rispetto a come era la situazione sanitaria nella nostra città, dove ci stavano togliendo tutto, perché non dimentichiamolo, con quel protocollo abbiamo recuperato posizione, abbiamo bloccato la presenza dell'ospedale Santa Croce a Fano, anche se domani dovrà nascere una nuova struttura, e questo non era previsto. Questo, ripeto, è stato un grande risultato, però alla luce anche di quanto è avvenuto, e siccome arriveranno risorse importanti, perché io spero che al di là adesso delle polemiche di parte, se l'Italia usufruirà delle risorse del MES per la sanità, le regioni si troveranno, a prescindere da chi governerà dopo settembre, dopo le elezioni, si troverà ad avere risorse importanti proprio per rafforzare il sistema sanitario del territorio. Sindaco, iniziamo a leggere un po' di messaggi, perché sono già tanti. Intanto due segnalazioni. All'asilo di via Ranuzzi, nel quartiere del Vallato, l'illuminazione pubblica si accende alle 15, quindi forse c'è qualche discussione. Adesso questo lo segnaliamo all'ufficio competente per farlo intervenire. Via Papiria, invece, dicono che è ora di tagliare l'erba dalla nuova rotatoria verso il centro, mentre in via della Colonna, che va verso il Vallato, prima di arrivare all'edicola, è piena di buche. Fanisi già lo sa, quindi hanno già avvisato l'assessore... Sì, però devo dire che non è più Fanisi, è l'assessore competente, ma l'assessore Tonelli. Tonelli. A proposito di buche, ci chiedono anche novità sul piano asfalti. Sì, piano asfalto, adesso dovremo fare nuove asfaltature. Purtroppo con il lockdown c'è stata una sospensione e abbiamo un ritardo inevitabile. Ci sono asfaltature già programmate, queste dovrebbero partire a giorni, che sono in qualche momento una conseguenza dei lavori non finiti dell'estate precedente. Poi abbiamo un nuovo appalto, che dovrebbe... è in coda all'ufficio appalti per far uscire il bando. In che zone, Sindaco? Lì abbiamo, adesso non ho l'elenco, abbiamo alcuni interventi per ciclabili, collegamenti messi in sicurezza di alcuni percorsi. Abbiamo una serie di strade, proseguendo per i quartieri dove non eravamo arrivati, tra i quali ci sarà Sant'Orso, alcune strade più trafficate. Siccome noi abbiamo oltre 400 km di strade, ne abbiamo asfaltate tante in questi anni, adesso proseguiamo con la programmazione. Adesso a giorni dovrebbe partire anche l'anello di San Cesario, perché è stato finanziato, c'è già la ditta che lo deve fare. Poi alcune volte ci troviamo anche noi ad avere dei problemi con le ditte, perché noi chiediamo di intervenire subito, poi magari hanno un cuo da altri lavori. Però ecco, questi dovrebbero essere fatti entro la fine dell'estate. Ha parlato anche di piste ciclabili, poi parleremo anche di quello, perché c'è stata un'inaugurazione sabato a Marotta, e quindi abbiamo delle domande per lei, con qualche polemica. Abbiamo una telefonata, sentiamo che c'è in linea. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Sofia, chiamo da Ponte Sasso, comune di Fano. Sì. Ho una domanda semplice, semplice per lei. Cosa dovrebbe pensare un turista che viene in vacanza a Ponte Sasso del sindaco di Fano? Sindaco, suppongo insomma che si sentano un po' abbandonati, messa così. Che cosa risponde? Sì, allora, noi lì abbiamo, adesso ci colleghiamo anche con la pista ciclabile di Marotta. La signora ha ragione, perché poi bisogna anche assumersi le responsabilità. Io penso di essere stato un sindaco che ha guardato a tutti i quartieri, e anche a Ponte Sasso noi interventi ne abbiamo fatto, perché bisogna sempre ricordare da dove partiamo, come era cinque anni fa e come è oggi. Lì c'è stato un problema oggettivo. Sabato abbiamo inaugurato un prezzo della ciclabile il tratto di Marotta, che si collega con quello di Ponte Sasso e con quello di Senigallia. Fra l'altro, il progetto è partito dal comune di Fano. Sono stato io che l'ho spinto e ho chiesto al comune di Senigallia prima e a Mondolfo di partecipare a questo bando, che abbiamo vinto. I progettisti per Marotta e Fano sono i progettisti dell'amministrazione comunale, quindi non si può dire che non l'abbiamo seguita. abbiamo avuto un problema di ritardo. Purtroppo tre mesi i lavori si sono fermati. Io non posso farci niente. A Ponte Sasso, perché abbiamo aggiunto altre risorse, perché oltre a fare la pista ciclabile, facciamo dei lavori sotto la pista ciclabile per la raccolta delle acque, che porterà un beneficio. Purtroppo i lavori non sono terminati, li abbiamo dovuti sospendere, li riprenderemo dopo la stagione turistica, perché è chiaro, non si può continuare a lavorare e lavorare mentre c'è la stagione. Fra l'altro, purtroppo anche questo, il lockdown ci ha bloccato anche su questa gara. Noi a fine febbraio, i primi di marzo, eravamo pronti per uscire con un bando per un concorso di idee per il waterfront, che riguardava uno, Ponte Sasso, Torrette, l'altro, Lido e Sassonia. Abbiamo messo risorse importanti, perché se vogliamo valorizzare la città, bisogna renderla anche più bella. Abbiamo fatto interventi nel centro storico, che questi servono per tutti, per l'immagine, e devo dire che i risultati stanno arrivando. C'è un tema di riqualificazione anche di lungomare, perché da troppi anni questo non avviene. Su questo era uno degli obiettivi che mi sono dato in questo mandato, e rimane. Ripeto, noi i primi di marzo eravamo pronti con le risorse già finanziate per far uscire questo bando. Avremo dato alcuni mesi per le proposte di idee, e poi avremo iniziato per Stralci e abbiamo diviso proprio per farne uno tra Ponte Sasso e Torrette e l'altro per Lido e Sassonia. Purtroppo, io non ci posso fare niente, mi prendo tutte le colpe, però certe situazioni vanno oltre la nostra volontà. Per la ciclabile invece? Per la ciclabile, dicevo, ripartono subito dopo l'estate. Diceva, la ditta è la stessa. Sì, sì, sì. Prima di sentire che c'è in linea, le chiedono sempre da Ponte Sasso di tagliare l'erba dove? Ci spiegano, mia mamma insieme ai suoi fratelli ha una casa a Ponte Sasso in mezzo a due terreni del comune. Uno è quello dell'ex Fantasy World, l'altro è quello adiacente a Roberti e Paoletti. In entrambi i terreni l'erba è molto alto, ogni tanto ci troviamo... Fra l'altro su questo do un'altra informazione, lì c'è anche il tema annoso dei fanghi a cui stiamo dietro da anni, ci siamo, tutto il percorso è finito, adesso è all'ufficio appalti dell'autorità portuale di Ancona e mi hanno garantito, dovevano farlo entro giugno, ma mi hanno garantito il responsabile dell'ufficio appalti e contratti dell'autorità portuale che entro luglio uscirà la gara per individuare la ditta che dovrà portare via i fanghi sia a Torrette che al porto. Quindi adesso ci siamo veramente. Siamo in dirittura d'arrivo. Sentiamo chi c'è al telefono. Buonasera. Ci sente? Pronto? Sì, buonasera. Prego, il sindaco è qua che l'ascolta. Pronto? Sì, senta. Io volevo segnalare al signor sindaco una situazione di pericolo. Sì. Io abito al Fenile e mi ricco per reccare il mio afano mi trovo sempre alla rotatoria lì a Belgatto, no? Sì. E lì c'è un aiolo sparticappico dove era posizionato un cartello, una segnaletica stradale sia direzionale che senza obbligatorio. Però questo palo segnaletico da circa due mesi, non so da chi, da come, perché è stato abbattuto. adesso si trova abbandonato in mezzo alle steppaglie ai bordi della strada. Quindi l'aiuola non è più visibile. Infatti, questa mattina su passato si trovano delle lunghe tracce di frenatura, di atto, che siccome è radente al piano stradale, quindi questa aiuola non si vede. Perciò crea una situazione di estremo pericolo. Le posso aggiungere che due giorni fa ho segnalato il fatto a due vigili urbani qui di Fano, però hanno nicchiato e tuttora la cosa sta così. Però io, ripeto, mi sento il dovere di segnalare perché lì è una situazione di estremo pericolo, specialmente di notte perché quella aiuola radente non si vede proprio. Però vedere questa segnaletica abbandonata in mezzo alle steppaglie è tutta storta, insomma, sinceramente non è un bel vedere. Sì, guardi... Ma è pericoloso. Sì, siccome me l'avevano già segnalato anche un altro cittadino per capire bene prima della... venendo da Fenile verso Fano e dopo prima la rotatoria? La rotatoria di Belgatto. Sì, sì. Prima o dopo la rotatoria? Sì, cioè venendo dal Fenile a Belgatto lì, dove c'è poi la deviazione per il cimitero c'è la rotatoria quindi c'è subito lì uno si trova di fronte questa aiovola spacchi traffico che quella era segnalata da un palo dove c'erano tutte le direzioni Ancona, Marotta eccetera eccetera e in più la freccia a direzionare però quella è da circa due mesi più che è stata abbattuta da una macchina non so da che cosa insomma c'è stato qualche problema grazie per questa segnalazione buona serata Sindaco le chiedono quando sarà asfaltata via del ponte e anche una traversa di via del ponte subito dopo via Lelli però diceva non ha qua l'elenco delle vie non so se a memoria si ricorda che andremo ad appaltare in questa fase d'altronde dappertutto non ci arriviamo ne facciamo una quantità tot chilometri all'anno poi arriviamo dappertutto vorrei segnalare un aspetto noi in questa fase anche per onestà ci stiamo trovando sotto una difficoltà organizzativa particolare abbiamo avuto tutta una serie di pensionamenti nell'ufficio lavori pubblici abbiamo tantissimi cantieri perché siamo stati bravi che abbiamo bravi abbiamo fatto il nostro dovere abbiamo ripetito come? lavorano anche da casa o sono già tutti no ma il problema non è casa è che abbiamo avuto tanti pensionamenti e non sono stati sostituiti c'è una mole di lavoro importante ogni persona ogni progettista ha una serie di cantieri tra la direzione lavori le progettualità quindi sono intasati all'ufficio strade siamo rimasti con una persona fra l'altro poi per un periodo ho avuto anche un infortunio quindi non avevamo nessuno e con il lockdown ricordo che nel nostro bilancio di entrata abbiamo meno 5 milioni abbiamo dovuto fare delle manovre per contenere questa minore entrata con delle minori spese quindi abbiamo dovuto posticipare una quota importante per le assunzioni a fine anno se le cose non peggiorano quindi abbiamo anche una difficoltà oggettiva su tanti fronti e poi la gente chiaro vede la piccola particolare la piccola cosa ma come non non si accorgono ci accorgiamo ma alcune volte non riusciamo quindi è una parentesi organizzativa difficile in questo momento quindi mi sento anche di ringraziare perché diversi di questi stanno facendo un lavoro massacrante al di fuori degli orari si portano il lavoro a casa quindi cercano di in qualche modo colmare le lacune che ci sono però oggettivamente poi anche umanamente diventa impossibile riuscire a seguire tutto quindi ci scusiamo cerchiamo cercate di comprendere anche questa situazione contingente data non vuole essere un alibi ma certe cose sono oggettive quindi ma quali sono i servizi anzi i settori che subiranno dei tagli ma adesso noi siamo riusciti a contenere con delle minori uscite proprio sul personale abbiamo contenuto una cifra importante adesso vediamo in questi giorni come è andata la prima rata del dell'I grazie